Dopo che è entrata la scarpa è bella precisa e confortevole. Sì, tra l'altro nei prossimi giorni testeremo anche le famose Clifton Edge e magari faremo un confronto con le KV3, vediamo. Nelle ultime settimane ci è stato chiesto da più parti sul canale di sapere quali saranno le prossime recensioni di scarpe che effettueremo qui sul canale stesso. Sto aspettando quindi l'arrivo di Andrea per parlarvi di quali saranno le prossime 4-5 scarpe che recensiremo nel mese di luglio ed agosto. Se avete delle raccomandazioni e dei suggerimenti siamo comunque qui a disposizione, sappiate però che la recensione fondamentale di questo mese sulla quale stiamo lavorando da parecchie settimane è quella relativa alle famose Nova Blast di ASICS che sono secondo noi una delle principali innovazioni presenti in questo momento sul mercato e che vale la pena dal nostro punto di vista raccontare. E voi vi chiederete ma di che colore le hai scelte? Lascio qualche secondo di pausa per decidere e poi ve lo mostrerò. Va bene, non siate sorpresi che comunque per la scelta di questa Nova Blast siamo andati non come invece avevate visto sui vari siti ASICS ma su un colore tipicamente nero-azzurro che fondamentalmente a me piace tantissimo e che secondo me possono essere davvero utilizzate in tutte le condizioni. Ecco il modello nuovo per Andrea, la mia versione invece è già disponibile da parecchie settimane quindi troverete sul canale tra pochi giorni la recensione principale. Ora lascio la parola ad Andrea che vi racconterà sul canale quali sono le scarpe che testeremo nel mese di luglio e di agosto e che avremo il piacere di discutere qui sul canale. Quando ci troviamo qua assieme non è un caso che stiamo testando diverse tipologie di scarpe ci sono arrivate varie scarpe nei giorni scorsi parlo con Andrea che ci racconterà un po' quali sono le novità sul canale delle prossime giornate. Andrea quali sono le principali scarpe che ci sono arrivate? Allora io proverò queste Kipran Ultra Fast arrivate da Decathlon abbiamo una Triumph 17 con il nuovo Power Run Plus e la Oka Kabu 3 E cosa ne pensi dopo la prima uscita con queste Ultra Fast della Decathlon? Guarda la scarpa è molto molto leggera molto secca mi ricorda molto la Dios 2 addirittura che avevo Viola e adesso la proverò in pista su qualche ripetuta più breve vediamo come risponde Sì forse sarà anche la prima recensione nella quale utilizzeremo il Ronin S per filmarti in pista non so se riuscirò più a starti dietro anche perché pesa un chilo sto tizio e quindi vediamo 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 E invece cosa ne pensi di queste Socony Triumph 17 sono uscite in modello 18 ora sembra che queste scarpe possano essere quelle che ci consentono di correre i lenti in maniera precisa e soprattutto di spendere poco perché appunto sono uscite la nuova versione cosa ne dici? Allora la scarpa è bella cicciosa è molto morbida sembra molto confortevole rispetto ad altri modelli che avevo provato di Socony la trovo davvero confortevole e morbida per fare i lenti E questo Power Run Plus cosa ne dici? Non mi sembra per niente male l'ho trovato meno mutevole delle Power Run che avevo provato ai tempi e non mi sono trovato male Sì poi se la recensione andrà comunque bene compreremo anche le Triumph 18 però secondo me è un'ottima scarpa o magari ce la facciamo mandare che è meglio che comprarla Ah beh non si può avere tutto dalla vita come sappiamo e invece cosa dici di queste KV3? Sicuramente bellissima esteticamente molto strana come scarpa in sé l'intersuola non è come quella che ero abituato ad usare sulla Rincon o sulla Mach 2 un pochino più strana un pochino più dura secondo me è un gradino sotto le altre due ma staremo a vedere E a livello di Tomaia sembra davvero futuristica Sì la Tomaia è davvero bellissima uno con il collo alto del piede come me un po' le soffre però vabbè dopo che è entrata la scarpa è bella precisa e confortevole Sì tra l'altro nei prossimi giorni testeremo anche le famose Clifton Edge e magari faremo un confronto con le KV3 vediamo Speriamo di averle il prima possibile le Clifton Edge davvero belle le ho viste soprattutto non credo che abbiano fatto la versione nera quindi quindi andrà bene Sì in effetti no no di sicuro vedremo comunque ci vediamo alla prossima grazie ancora ciao e a presto Se ci sono altre scarpe che vorreste vedere testate sul canale io sono Massi sono qua alla vostra disposizione e non dimenticatevi di venirci a trovare domani sul canale come al solito parleremo dell'allenamento della settimana ciao alla prossima e come al solito stay strong